Tra provette, alambicchi e ritrovati, moglie e marito sono due scienziati. Lui fa di nome Pierre e lei Marie, stiamo parlando di Madame Curie. Buon suar, mon amore. Buon suar, Pierre. È pronta la cena, Marie? No, Pierre. Porquà? Porquà ho passato tutto il pomeriggio in laboratorio. Te l'ho detto tante volte, tu in laboratorio mi combini solo pasticci e devi stare in cucina, Sherry. Sei antifemminista, Pierre. Su, via, non te la prendere. Escusi, ma in questi giorni sono molto nervoso, sai? Sto realizzando una scoperta che mi darà il premio Nobel. Io sono molto contenta quando ti sento parlare così, Pierre. Maritino mio, ti arrabbi se ti dico una cosa. Figurati, Marie. Nei ritagli di tempo ho perfezionato i tuoi studi. Tu? Moi. Tu? Moi. Adesso ti faccio vedere. Scusami. Ricardé, guarda. Cos'è che sei? Amma che il tastè. Isì? Amma che, amma che. Marie! Ma insomma, cos'è questo arnese? È la tua invenzione, perfezionata. La radio. Mondier. Mondier. Cosa mi combini, sciocchina? Cosa? Non è la radio che devo scoprire, ma il radio. Il radio. Il marito della radio. Che ne faccio. Ciao!